Michele Tedesco rompe il silenzio e si dice pronto a portare avanti la sua idea per Salerno che resta inquadrata in un contesto civico. L'avvocato è determinato a lanciare la sfida e dopo aver ringraziato i consiglieri del gruppo Oltre che hanno annunciato il loro sostegno, lancia un messaggio ai partiti di centrodestra. Registro che faticano a trovare una sintesi sul mio nome per esigenze legate ad equilibri nazionali e regionali, ma la mia scelta non sarà vincolata dalla decisione di queste forze politiche, il messaggio consegnato ai social. Un chiaro ultimatum a rompere gli indugi indirizzato a Forza Italia o DC Lega e agli altri partiti. L'unità del centrodestra però è lontana come ha ribadito il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Jannone che ha organizzato una conferenza per tracciare il bilancio di questi tre anni di attività parlamentare. Non possiamo però accettare che si perda tempo in schermaglie motivo per il quale dopo aver consumato il confronto nel quale non sono venute risposte chiare dai nostri alleati noi abbiamo tratto la nostra scelta cioè quella di sostenere l'avvocato Michele Sarno. Nel campo della maggioranza uscente invece nessun passo indietro è l'impegno a lavorare per il bis di Enzo Napoli come ribadito dal deputato DEM Piero De Luca che ha presenziato all'inaugurazione dell'Infopoint Europa Sociale. Il PD si sta organizzando, sostenendo innanzitutto con forza l'azione dell'amministrazione comunale. Ci sono dei progetti di sviluppo estremamente importanti che saranno portati a compimento nei prossimi mesi. Penso a Piazza Libertà, penso al completamento del ripascimento delle spiagge e poi ai grandi progetti di sviluppo che saranno presentati alla città e realizzati nella prossima consigliatura.